42 N.E.R.D. N.E.R.D. Caro Babbo Natale, ti scrivo questa letterina per cercare conforto. Questo Natale il mondo sembra impazzito e ovunque mi giro vedo cose che non comprendo. Vedo supereroi combattere contro ballerine di danza classica e mi chiedo se mi toccherà vedere Hulk con il tutù verde. Vedo la torcia umana vestita da Stormtrooper sbuccare nel deserto. Ma quella probabilmente me la sono immaginata. Com'è vero che le spade laser non hanno tre lame? Scopro che la Sony ha fatto carte false per far entrare l'Uomo Ragno negli Avengers e dire che dopo Spider-Man 3 eravamo noi che speravamo di vedere invece gli Avengers entrare nell'Uomo Ragno. Vedo che anche i Terminator hanno la data di scadenza e vanno male come la lattuga e lo yogurt. Chissà se Arnold ha più difficoltà a combattere il T-1000 o i problemi di prostata. Questo è un Natale che proprio non capisco dove tutti ci struggiamo per sapere se sia effettivamente meglio la Xbox One o la PS4 e intanto l'Iva è al 22%. Caro babbone quando sono nato io non c'erano le console ma l'Iva era al 12%. Cazzo ma quanto sono vecchio! E comunque caro il mio babbo Natale sai cosa ti dico? Per quest'anno non voglio sapere se le JJ di Abrams stanno per Jar Jar o se quell'apriporta di Capitan America sarà all'altezza delle aspettative. Voglio solo divertirmi con gli amici quindi portami un bel gioco di società che mi accompagni nel 2015. Magari uno dove non mi incazzo troppo se poi perdo, va! Tanti auguri babbo Natale firmato il tuo amichevole nerd di quartiere. Grazie a tutti!